La sindrome del canale carpale è la patologia probabilmente più diffusa nell'ambito delle patologie della mano. È caratterizzata da un indebolimento della sensibilità, della forza, spesso anche con un fastidioso formicolio che disturba durante le ore notturne. È purtroppo una patologia che ha come unica soluzione l'intervento chirurgico, per fortuna ormai da diversi anni, per via endoscopica. Questo significa non dover tagliare il palmo della mano, poter avere una minima invasività, il via di accesso, il buco per intenderci, viene chiuso semplicemente con un sottile strato di colla e il paziente può utilizzare le mani immediatamente e addirittura lavarle dopo un paio di giorni. Questo cambia significativamente sia la qualità di vita del paziente nel post-operatorio, ma soprattutto permette un recupero della forza estremamente valido, importante in tutti quanti, sia nei pazienti più giovani che ancora hanno un'attività lavorativa, sia nelle persone meno giovani che però hanno così garantita l'autonomia della propria vita personale.